Ciao a tutti, sono Federica, sempre la vostra presentatrice Avon di fiducia. Oggi ho deciso di fare un video sulla campagna 12, ossia la campagna che inizia appunto il 9 ottobre e finirà il 25 dello stesso mese. Come vedete il prossimo ordine, come vi ho scritto qua, sarà appunto il 25 ottobre. Perché ho deciso di fare questo video? Perché in questa campagna ci sono molte, molte novità e c'è un aggiornamento, un rinnovamento di alcuni prodotti e quindi ho pensato che fosse più utile farvi un video per farvi vedere direttamente dal catalogo i nuovi prodotti e i rispettivi prezzi piuttosto che magari scrivervi mille post su Facebook. Quindi come vedete questa è la copertina, abbiamo qua la nuova testimonial del Makeup Avon, ossia Irina, che conoscete tutti penso. E niente, andiamo direttamente ai nuovi prodotti. I prodotti nuovi riguardano i rossetti colore sempre vivo che come vedete sono cambiati, perché appunto i rossetti sempre vivo prima erano fatti in questo modo, vedete questa è la confezione vecchia e adesso c'è stato questo rinnovo di questa confezione con finestra trasparente sul tap per consentire al cliente di vedere subito la tonalità. E niente, ci sono nuovi colori, sono sempre tantissimi, alcuni sono i stessi di prima, solo che è stato cambiato il nome, mentre altri sono nuovi. Ad esempio, mi viene in mente adesso vedendo così, Oxford Wine e Ripe Papaya non c'erano prima, invece ad esempio Pout o Red 2000 c'erano già. Quindi diciamo che ci sono delle innovazioni in questa linea. E in questa campagna vengono a 6,90€, come potete vedere 6,90€ l'uno. Tra l'altro, già che ci sono, vi faccio vedere come questa applicazione, se andate sul sito di Avon, praticamente avrete l'occasione di provare il make-up per sperimentare le tonalità direttamente da casa tua. Non so esattamente come sia adesso perché ancora non ho provato, presumibilmente tramite questa applicazione potrai vedere meglio i colori, potrai magari caricherai una tua foto e potrai vedere come sta un colore piuttosto che un altro sulle tue labbra, eccetera. Poi, il nuovo prodotto sono anche queste matite labbra che sono proprio un due in uno, cioè fanno sia da matita che da rossetto, ci sono 6 tonalità e vengono a 7,50€ l'uno. Poi ci sono le nuove matite contorno labbra a 3,50€ l'una. Poi i nuovi rinnovati lip gloss glaze wear, questi si chiamano lip gloss ultra glazer a 4,90€. E vedete anche qui tutti questi colori. E poi abbiamo anche un rinnovo per quanto riguarda gli ombretti. Fino all'altra campagna gli ombretti erano fatti in questo modo, vedete le palette erano fatte così. Adesso invece hanno cambiato e hanno deciso di farli in questo modo numerandoli per avere appunto un aiuto quando ci si trucca, infatti troverete sempre dentro ogni ombretto come applicarle al meglio, come l'utilizzo, perciò vi spiegano dove mettere la tonalità 4 piuttosto che dove mettere la tonalità 1, eccetera. Ci sono tantissime nuove palette di colori, vedete, ce ne sono parecchie. E qua abbiamo anche il nuovo eyeliner col, che è, sì, col eyeliner, 2 in 1, eyeliner e sfumino. Gli ombretti vengono a 8,90€ l'uno, mentre l'eyeliner viene a 5,50€. Poi abbiamo anche il 2 di ombretti nuovo, vedete anche questa è rinnovata un po' la confezione e ci sono dei nuovi colori, come potete vedere, e vengono a 6,99€ l'uno. E poi per quanto riguarda le unghie invece ci sono questi nuovi smalti con magnete. Praticamente questo è uno smalto effetto magnetico, ci sono diversi colori, c'è il grigio metallico, l'oro, il blu, il fucsia, il viola, il verde. E praticamente se comprate assieme queste formine, questi magneti, sia con la forma stella che con la forma a friscia, potete appunto avere questi effetti sull'unghia, fatti così. Ecco, praticamente dovete prima scendere lo smalto sull'unghia e poi, senza appoggiare, lasciare, come per dire, lasciare il magnete appena sopra, qui, appena sopra sull'unghia, senza che si tocchi, appena sopra e praticamente questo magnete attraerà lo smalto in modo che venga questo disegno. E gli smalti costano 5,50€, mentre il magnete 1,99€ l'uno. L'offerta speciale del mese è che acquistando per 12€ da pagina 6 a pagina 21, quindi ad esempio, se comprate un ombretto nuovo che costa 8,90€ e un lip gloss che costa 4,90€, siete già arrivati ai 12€ e potete avere a 3,95€ questa trousse. Vedete, questa è una trousse appunto portatrucchi che si ripiega in una pochette, in una pratica pochette e vi sono 4 scomparti per contenere tutte le cose, con bustini trasparenti per vedere appunto ciò che viene contenuto. Quindi, per avere questa bella trousse a 3,95€ dovete acquistare 12€ da pagina 6 a pagina 21. Quindi, in questa offerta sono compresi, sono coinvolti diciamo, i rossetti, queste nuove matite labbra, i gloss, i nuovi ombretti, sia i 4 che i 2 e l'ailiner. Poi, potete anche acquistare la trousse comprando la matita contornocchi Glimmer Stick Diamonds. Come vi avevo detto il dombretti, l'Avon Super Shock che in questa campagna viene a solo 5,99€ quindi un buonissimo prezzo. Oppure, con la cipria compatta, il fondotinta Calmin Effect o il correttore. Oppure, appunto, gli smalti che vi ho fatto vedere prima. Invece, un'altra offerta speciale di questa campagna è che puoi acquistare a 21,90€ questa felpa di Hello Kitty, questa tuta abbinata ai pantaloni, acquistando per 15€ di questo catalogo. Quindi, se in tutto il catalogo comprate 15€, potete avere questa tuta a 21,90€. Questa tuta è molto carina. Scusate se sentite ogni tanto dei scoppiettini, non so se si sentirà poi nel video finale, ma io sono attaccata al camino perché oggi fa veramente freddissimo. E sono qua con il maione della nonna, il camino, perché veramente oggi si crepa di freddo. Quindi, se sentite qualche schiocco, è per colpa del mio camino. Comunque, continuando, un'altra offerta di questo mese è che se acquistate il profumo Far Away a 13,95€, potete avere due prodotti complementari a scelta, soli 1,50€. Quindi, comprando un profumo, potete avere il talco profumato, ad esempio, e il deodorante a 1,50€, anziché a 10€ piuttosto che 8€, eccetera. Un'altra novità riguarda, appunto, queste perle, questo trattamento di bellezza, con vitamina C in perle monodose, praticamente come si utilizzano? Alla sera, dopo il detergente, il tonico, quello che è, si ruota la perla per fare in modo che si apra e si eroga il prodotto sulla propria mano e in questo modo si applica il prodotto sulla pelle massaggiando con i polpastrelli. Praticamente cosa fanno queste perle? Donano una pelle più levigata, morbida e radiosa e, appunto, fa parte della linea della Solution Trulia Adians e questo è, appunto, un prodotto nuovo e viene 9,90€. Anche in questa campagna c'è, ovviamente, il nuovo prodotto della New Clinical E-Defense me ne avevo già parlato di questo prodotto praticamente c'è la lozione giorno e la crema notte la lozione giorno serve per proteggere la pelle dai agenti ambientali e dai agenti esterni quindi inquinamento, temperature aggressive, fumo, raggi del sole, eccetera perché, appunto, da uno studio scientifico si è dimostrato che l'invecchiamento cutaneo è dovuto in gran parte agli agenti ambientali perciò sia la lozione giorno che la crema notte vengono ancora in questa campagna 17,90€ tra l'altro vorrei specificare che sono tutti e due prodotti adatti alla pelle sensibile e anche in questa campagna è possibile acquistando un prodotto uno di questi due prodotti ordinare il set sguardo giovane 2,99€ come nella scorsa campagna e questo set è composto da il mascara Super Drama dall'ombretto a New con base anti-età e da questo prodotto della New Clinical apposta per il contorno occhi per le occhiaie per le borse, eccetera perché è composto da un gel che deve essere messo sulla parte superiore sotto lo sopracciglio per rendere la pelle più tonica in questa zona mentre la crema deve essere messa nella zona inferiore invece per attenuare le occhiaie tornando ai trucchi oltre alle tantissime varie offerte di questa campagna in particolare c'è questa che vede le perle di blush a venire a soli 6,99€ questo è uno dei prodotti must cioè uno dei best seller di Avon e in questa campagna c'è questa grande offerta in cui potete acquistarle a soli 6,90€ per quanto riguarda la color trend anche qui abbiamo delle novità abbiamo queste matite ombretto di questi quattro colori un argento un'acqua marina un rosa e un violetto sembrano così a vederli sembrano dei colori molto luminosi e appunto vengono a 4,99€ l'uno e sono appunto come vi ho detto i nuovi prodotti nuovi, nuovissimi poi come al solito abbiamo anche questi sono nuovi ma ci sono già dalla campagna 10 cioè mascara colorati e basta perché gli altri hanno il rossetto extra lasting ossia quello a lunga tenuta e poi abbiamo questo nuovo gloss che praticamente è un gloss che da trasparente sulle labbra diventa rosa il gloss cambia colore che viene a 3,99€ e nelle ultime cose che vi faccio vedere è questa offerta che praticamente consiste nel avere 3 prodotti una crema deodorante per piedi una crema levigante per piedi e una crema per calli per piedi a 9€ quindi potete avere se desiderate questi 3 prodotti a soli 9€ e poi abbiamo a disposizione questi prodotti per creare un set nel senso qua ci sono una serie di prodotti come vedete voi ne scegliete 5 di questi e li avrete a soli 8,90€ vedete leggete qui 5 prodotti diversi a scelta a soli 8,90€ quindi diversi non potete ad esempio prendere 2 di questi uno di questi e due di questi devono essere tutti diversi tra di loro e abbiamo diversi prodotti come potete vedere abbiamo il balsamo dopo barba la pedicure per tutto in uno il detergente delicato per le mani il prodotto per i bambini shampoo e balsamo all'anguria la lozione per il corpo poi lo shampoo idratante il gel d'occia la crema protettiva per le mani il detergente intimo il balsamo all'olio di mandorle e avocado il deodorante antistudorale a sfera per lei e uno per lui quindi questa è veramente una grande offerta che vi che vi propone Avon da non perdere assolutamente perché ha 5 prodotti 8,90€ tra l'altro tutti ottimi prodotti e poi infine ci sono i deodoranti a sfera di varie fragranze che riprendono appunto i vari profumi di Avon sia per lui che per lei a 1,99€ l'uno con questo ho finito ovviamente non mi metto a raccontare tutte le offerte di Avon perché sono veramente tantissime e come sapete ce ne sono veramente per tutti i gusti spero solo di essere stata abbastanza chiara e come sempre il mio invito è quello di chiedermi qualsiasi cosa vogliate su appunto il mondo Avon se volete qualche chiarimento qualche informazione in più se volete vedere cataloghi se volete provare qualche prodotto io ho a disposizione molti campioncini quindi senza problemi scrivetemi pure e continuate a seguire la mia pagina mi raccomando ciao e a presto al prossimo video a presto